Sabato 8 luglio alle 20.30 in piazza del popolo a Canna Longa arriverà a compagnia Reucaso di ritorno dal monte Cervati dopo il viaggio rurale lungo gli antichi sentieri della transumanza per riportare a valle le pezze di formaggio di capra stagionate in quota per circa tre mesi. Il viaggio di andata del mese di aprile si era concluso a rifugio Cervati con un'edizione straordinaria dell'Africa Agnola in alta quota. Il gruppo di ragazzi dopo due giorni di strada e 28 km percorsi è raggiunto a destinazione per stagionare i formaggi aromatizzandoli con le erbe autoctone raccolte nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni. Dopo tre mesi di maturazione in quota i formaggi verranno sottoposti all'attento giudizio dei maestri assaggiatori dell'Onaf che provvederanno a stilare le schede tecniche per valutare i risultati ottenuti. Piacevole di rilevante interesse la partecipazione delle aziende locali che, incuriosite dalla manifestazione, hanno offerto alcuni formaggi da transumare che verranno presentati nel corso della serata. Durante la serata di domani in Piazza del Popolo verranno offerti cavatelli impastati con farina di grani antichi conditi con sugo e cacio ricotta. La manifestazione sarà lietata dai conti reluciliento del contastore Domenico Monaco. In occasione del ritorno a Canalonga di accompagnare Ucaso, l'associazione Antefiera ha organizzato l'anteprima dell'Africa Agnola, manifestazione che da secoli accompagna il Cilento nel mese di settembre con l'appellativo di Regina, vista la rinomata importanza assunta dall'evento.